Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Super Pokémon Rumble. Benissimo, dirigiamoci verso la zona autunno. Per ora dell'esercito di cui parlava Zorua ha nessuna traccia. Ma come si so al dire chi cerca trova? Molto bella l'ambientazione di questo paesaggio. Wow, incredibile, che bei Pokémon. Forza, facciamoci strada tra questi Dirling. Penso che trova però non sia il Pokémon più indicato. Decicorita, vedo. Grumble con Ira. Proviamoci. Speriamo di aver fortuna. Certo una mossa a fuoco ci vorrebbe. Decicorita. Forza, utiliziamo Ira. Ma non penso che abbiamo molte possibilità di catturare questi Pokémon. Degli Sneevy. Wow, o Desert Vine. Sì, Sneevy. Servai nell'evoluzione. Speriamo di catturarlo. Anche se con Ira la vedo difficile. Infatti. Opla. Uh. Una Moongous. Wow. Dei buon Sly. Ah, però è un peccato non catturare questi Pokémon per colpa di un Grumble. Delle mossa a fuoco però neanche ce le abbiamo. È da molto tempo che non incontriamo dei Pokémon di tipo fuocoforti. Qualcuno avremo pure, ma sarà di livello troppo basso. Sudowoodo. Comunque direi di cambiarlo il Pokémon. Sì. Io direi di cambiarlo. Ah, il Sudowoodo che scappa, poverino. Vediamo se abbiamo qualche asso nella manica. Bah. Un Dodrio, Drapion, Audino. Scendiamo giù. 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 Bah. Non abbiamo Pokémon adatti. Forse un Drapion con una mossa a veleno. Bah. Questo Mianshow. Proviamo questo Mianshow con doppia sberla. Speriamo di aver fortuna. Sì. Abbiamo catturato già i primi Dirling. A quanto pare ci sarà utile questo Pokémon. Oh, mamma mia. Che entrata spettacolare. Oddio, non riesco bene a capire chi sia il Pokémon. Dove è sparito poi? Però non lasciamocelo indietro. Quello era un Pokémon temibile. È sparito. Nel nulla. Sarà stato... Sì, signori. Volete vedere che quello era proprio Tundurus? Wow. Magari l'avessimo catturato. Non trovate, signori? Abbiamo avuto una bella fortuna di incontrarlo, eh. Mica male. Non capita a tutti. Oplala. Il nostro Mianfo purtroppo sta per morire. Oh. Cerchiamo di sconfiggere questi ultimi Pokémon. Oplala. L'ultimo a doppia sberla. Benissimo. E abbiamo catturato anche un Cricketoon. Ma penso che sia un Pokémon forte. Bah, vediamo. Comunque anche un Pokémon di tipo volante andrebbe bene, no? Mettiamo questo Cricketoon con l'acerazione. Wow. Uh, cerchiamo di catturare quella Mungus. Forza, l'acerazione è tutta birra. Sì. Possa, signor Lorenzo. E vai. L'abbiamo catturato. 856. Wow. Vediamo un po'. Giga assorbimento. Wow. Certo, contro questo tipo di Pokémon non sarà molto utile. Però dai. Salvatto suo come Pokémon. Lì abbiamo lasciato un Pokémon seduto per terra. Comunque non ha possibilità questo Mungus contro questi Pokémon a volante. Guardate. Ai, ai, ai. Cerchiamo di catturare quel Bilif. Bah, Dodrio con Barahonda. Proviamo. Utilizziamo un po' tutti i Pokémon. Poi Barahonda è adatto in mezzo ai Pokémon. Forza, Dodrio. Siamo un po' pritti. Cambiamo Pokémon. Cambiamo Pokémon. Uh. Comunque quel Bilif c'è, sfuggito purtroppo. Eh già, signori. Dei buon Sly. E oppure là, direggiamoci verso il boss. Cerchiamo di cambiare Pokémon. Hmm. Questo Servain con schianto. Però subirà il contraccolpo. Un Meganium. Ma peccato che non abbiamo proprio niente. Cidenti, poi gli sgherri di Meganium sono veramente degli ossiduri. Perché Foglie Lama è una mossa molto potente che insegue il Pokémon. è un nemico. E non è la migliore delle cose. Forza, ce la puoi fare, Servain. Scappa, scappa. Uh. Certo non sarebbe male neanche catturare uno degli sgherri. Forza. Proviamo. Ai ai ai, scappiamo, scappiamo. Uh. Dobbiamo scappare, perfetto. Cerchiamo di mettere un Pokémon adatto a questa situazione. Giù, giù, giù. Missy Spillo. Perfetto, è super efficace. Uh. Drapion sarà la nostra salvezza un'altra volta. Benissimo. Forza, Missy Spillo. Tutta raffica. Forza. Sì, ce l'abbiamo fatta. Uh. Peccato che non l'abbiamo catturato. Ma va bene comunque. Al limite, se ci servirà un Pokémon erba potente, abbiamo il nostro Amungus. Quindi no problem. E abbiamo completato anche questo livello. Abbiamo catturato anche un bel po' di Pokémon nuovi. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto, ragazzi. Adesso direggiamoci un po' verso gli altri livelli. Ma lì c'è una Battle Royale. Ma forse sarebbe meglio affrontare tutti i livelli di questa piana. La zona magma. Wow. Utilizziamo un Ferali Gear. Sotto, giù, giù, giù. Eccolo qui. Con il suo Idropulsar dovrebbe portarci fortuna. Bah. Un da una zona magma si aspetta Pokémon di tipo fuoco. E giusto roccia, bah. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Infatti sì. Degli Slugmai. Dei Garmanitan. Niente di speciale nel primo piano. Procediamo. Verso nuovi orizzonti. Hmm. Dei Tepig. Dei Pig Knight. Wow. Cerchiamo di catturarlo. Ah, accidenti. Un bel piasco. Forza, forza. Continuiamo. Degli altri Slugmai. Non ci serviranno poi così tanto, signori. Dei Darmanitan. Accidenti. Non stiamo catturando nemmeno un Pokémon. Che cosa strana. E via Verso al prossimo piano. Ma su questo piano ci dovrebbero essere i Pokémon veramente forti e temibili. Dei Ragerrola. Perfetto. Forse il boss finale sarà un Gigalit. Non so. Eliminiamo i Pig Knight. Ah. E anche questo Roger Rola. Continuiamo. Ah, sempre dei Darmanitan. E dei Mastargo. Neanche un Pokémon preso. Vai così comunque. Su, 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 su. Altri Darmanitan. Perfetto. È la prima volta che ne prendiamo uno. Nuovo, infatti. 890. La potenza non è poi così male. Hm. Soltanto che non penso che abbia molti PS. E che non sia molto sfruttabile. Un Cranidos. Wow. Sconfiggiamo prima tutti i Pokémon prima di salire. E upla là. Saliamo su. Hm. Un altro piano. Wow. Dei... Dei Baldor. Cerchiamo di prenderne almeno uno. Eh, accidenti. Sono degli Ossi duri. Continuiamo con Idropulsar. Altri Cranidos. Wow. E degli altri Baldor. Accidenti. Cerchiamo di prenderne almeno uno, forza. Oh, ce l'abbiamo fatta. Continuiamo con Idropulsar. Dai, almeno un Baldor lo dobbiamo prendere. Accidenti. No. Fiasco più totale. Cambiamo Pokémon assolutamente. Ma mettiamo anche un Pokémon che sappia fare una mossa a lotta. Ah, no. Abbiamo preferito mettere questo Peliper con una mossa acqua. Accidenti. Neanche un Pokémon preso. Di questi qui, dico. Mi sarebbe piaciuto anche avere un Mascargo. Comunque no. Non ce l'abbiamo ancora. Non l'abbiamo ancora preso. Darumaka. Forza, Peliper. Continua. Vabbè, non ti curare ora di questo Darmanitan, l'ora. Verso il piano finale. Ma speriamo di catturarlo il Pokémon. Un Darmanitan. Wow. Incredibile. Questo sarebbe un bel Pokémon da aggiungere alla nostra squadra. Teniamoci lontani. E possiamo utilizzare contro di lui anche mostri tipo volante. Quindi direi che siamo messi bene. Scappiamo. Si sta arrabbiando. Attenzione, forse. Adesso colpiamo con Idropulsar. Wow. Quello era un troppo forte o un Marte il pugno? Cambiamo Pokémon. Utilizziamo uno di tipo lotta, magari. No. Nien show con Aero Assalto. Forza, Nien show. Ce la puoi fare. Aero Assalto. C'è sconfitto al primo colpo. Wow. Va, mettiamo questo... Sono parecchio indeciso. Questo Jellychant con Idropulsar. Forza, ce la possiamo fare. Uh, un Darumaka a terra. Pokémida. Forza, continuiamo a colpirlo con Idropulsar. Come vedete questo Pokémon è un osso duro. Sì, l'abbiamo sconfitto. Wow. E abbiamo vinto. Ce l'abbiamo fatta, signori. Per fortuna. Grazie ai nostri Pokémon di tipo acqua. Wow. E abbiamo conquistato ed esplorato anche la zona magma. Benissimo, signori. Nella prossima puntata andremo a sfidare la Battle Royale. Quindi ci vedremo nella prossima puntata.